C'è molto coraggio dei poverini, sono fame, non mi mollano. Sto aspettando Marco per andare su a prendere pappa, sia per me che non ho mangiato niente, sono già le quattro e mezza, sia per la Dudu, sia per tutti questi piccolini, tutti quanti vecchi da sto mare abbiamo, piccolini.